ciao a tutti scuolatti a scuolatti io sono scuola e oggi siamo in un nuovo video della lapicraft perché noi generalmente giochiamo sempre alla lapicraft si generalmente giochiamo così sembra questo gioco ci sono i problemi fattivi ah hai soccorto che ho del grano te sfamo? vabbè nessuno voleva essere sfamato aggiungiamo una freccia in questo episodio non so cosa fare non lo so proprio ragazzi un momento andiamo un po' cioè in cerca di minerali ok con questi assi di quercia nera voglio fare tipo la scultura qui mi rappresenti ok la voglio fare dietro casa nostra dai sì ci sta anzi no deve essere visibile aspetta che ammazziamo questa pecora aspettate e viene la pubblicità ovviamente ma deve venire questa pubblicità ragazzi e scusate vorrei attacco aveva visto un'altra pecora eccola dopo ci facciamo un altro letto allora vorrei tipo farla qua certo qua la possiamo fare ragazzi allora vorrei fare tipo una specie di squalo di bocca sì pensiamo dalla dalla faccia di questo squalo direi aspettate di farlo così aspettate di farlo così uffa di fare tipo ad apertura e farei così ecco se vi piace ditemi vi piace ok dai però ci sta io direi di non consumare tanti materiali quindi facciamo direttamente così e dopo chiudiamo di così l'ambiente beh alcuni ranno che dobbiamo togliere questo ma se togliamo questo non c'è più questo effetto non c'è più questo ok continuiamo ok 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 bene ok 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 aiuto aiuto mezzo cuore sono morto scappa 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 scappate scappiamo oddio sono dovrà vissuto con mezzo cuore non cibo carne che bontà mi amo e come è venuta la fame non ti poteva venire che cosa è successo sono infuriato tanto infuriato che schifo è stato di uccidermi ok chiudiamo e andiamo a continuare la struttura aiuto sulla spalla di legno che sono molto forte che me l'affronto sei ancora forza cosa no controllo lo fanno così come male dei tirani guarda te lo aspetti che c'hai Gino 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 dove sta vabbè l'abbiamo perso quel ragno oddio calmati sì piccolo amico va bene come vedo quel nostro amico se ne andiamo non è che tanto eravamo amici guarda ci ha fatto tanta compagnia non è vero beh guarda ci credavamo che ci ha fatto tanta compagnia coglierei un pezzo di erba signore un'erba terra poiche non so scusatemi scusatemi se non mi non mi sentite bene ma non lo so ecco è ritornato è ritornato muovo muovo moschele guarda quanto è cattivo ora guida il porcello qua non è che guida pure me non lo so perchè io rito questa non è cosa da ridere non è bello però sono pure io scello dovevo fare la coda e up così mamma mia ragazzi è ancora da aggiustare quindi non descrivano pur se alcuni non stanno discriminando ma no dai vedete beh continuiamo come parlo da schifo proprio grazie e non so cosa dire dai devo andare a prendere le sporce non so cosa c'è da dire c'è proprio tutto bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e ciao ciao